Emilio Cinquini, con il suo carro di seconda categoria, tratta un tema veramente singolare, il sogno. Ecco un ragazzo in procinto di addormentarsi. Il cervello governa lo stato di veglia che sta per interrompersi. Ora i vapori materializzano le fantasie oniriche, topo paperino l'infanzia, la figura femminile la fantasia erotica, l'elefante rosa l'assurdo, il magma fantastico l'inconscio prodotto del sogno. Il carro di seconda categoria, tratta un'imermazione, il cervello che colfoot sampai nel percorso del ob toda il sogno. Nel suo carro di острopago, c'è unarina che va abbondando il sogno di un poco l'inconscio prodotto del sogno. Grazie a tutti.